Ad Avellino il sindaco Foti è a un bivio. Se non passa il bilancio è crisi e non ci sarebbe altra exit strategy se non quella delle dimissioni. Addirittura potrebbero arrivare già dopo la prima convocazione se i numeri non fossero dalla parte del primo cittadino. Sarebbe auspicabile ma immagino che non andrà così. Immagino che il sindaco ancora una volta si arrampicherà sugli specchi cercando di passare in seconda convocazione. Intanto si terrà lunedì a 24 ore dal consiglio comunale decisivo il vertice di maggioranza voluto proprio da Foti. L'idea è quella di guadagnare ulteriormente tempo per trovare 11 coraggiosi e responsabili consiglieri disposti a votare il documento contabile per riuscirci almeno in seconda convocazione. Nel frattempo l'opposizione annuncia che non farà più sconti e si presenterà compatta al voto. Il tempo di fare da cuscinetto alle crisi interne della maggioranza è finito. Contestiamo molti punti di questo bilancio ma quello che contestiamo in via pregiudiziale è la modalità con cui si arriva a un voto che vede parti essenziali del bilancio come quella per esempio relativa al teatro che non sono proprio presenti nell'incartamento che ci hanno proposto. Quindi è di fatto un bilancio falso in questo momento o falsato. Io non lo so che cosa farà il sindaco. Sicuramente la città di Avellino non può continuare a navigare in queste acque. L'incertezza di una maggioranza e di un'amministrazione sta bloccando la città di Avellino. Grazie.